cosa sono le esperienze di premorte cosa sono le esperienze di premorte o in inglese near that experiences sono testimonianze di individui morti per breve tempo che rianimati tornano in vita e descrivono di aver visto qualcosa che ritengono ultraterreno adesso leggeremo qualche testimonianza di premorte quindi sono persone che a causa dell'incidente magari muoiono vengono rianimate queste persone che una volta rianimate dicono di aver visto un tunnel alla fine del tunnel una luce poi gli viene detto che non è ancora il loro momento rientrano nel corpo e si svegliano qui abbiamo alcuni libri, alcuni testi che parlano delle esperienze di premorte i primi due la vita oltre la vita e la luce oltre la vita sono di questo studioso che è un po' colui che per primo ha messo a confronto decine e decine di testimonianze mentre il terzo testo è il racconto di un'esperienza di premorte di una donna statunitense leggiamo insieme un'esperienza di premorte per capire meglio che cos'è allora il tunnel mi portava sempre più in alto finché uscì dall'altra parte è successo quando avevo undici anni avevo avuto una bicicletta nuova per il mio compleanno il giorno dopo correvo in bicicletta e non vidi una macchina che mi veniva addosso non ricordo l'urto ma improvvisamente mi trovai a guardarmi dall'alto vidi il mio corpo sotto la bicicletta e la gamba rotta e sanguinante ricordo che notai che avevo gli occhi chiusi ma io stavo sopra galleggiavo all'altezza di un paio di metri al di sopra del mio corpo e c'era un mucchio di gente intorno un uomo tra la folla cercò di aiutarmi venne un'ambulanza mi chiedevo perché tutti si preoccupassero visto che stavo benissimo quando vidi che mettevano il mio corpo nell'ambulanza tentai di dir loro che stavo bene ma nessuno mi sentiva io invece capivo quello che dicevano soccorretelo diceva qualcuno secondo me è morto ma mettiamoci all'opera diceva un altro quando l'ambulanza partì cercai di seguirla dall'alto credevo di essere morto mi guardai intorno e mi trovai in un tunnel con una gran luce alla fine il tunnel mi portava sempre più in alto finché uscì dall'altra parte in quella luce c'era un mucchio di gente che non conoscevo raccontai loro l'incidente ma mi dissero che dovevo tornare da mio padre mia madre e mia sorella perché non era ancora giunto il momento di morire rimasi a lungo in quella luce almeno così mi sembrò sentivo che tutti mi amavano che erano tutti felici secondo me quella luce era Dio il tunnel saliva come un turbine verso la luce non sapevo perché ero in quel tunnel né dove stessi andando ma volevo raggiungere quella luce quando arrivai nella luce non volevo più tornare avevo dimenticato il mio corpo per tutto il tempo dell'attraversamento del tunnel c'erano ad aiutarmi due persone le vidi quando giungemmo alla luce mi dissero che dovevo tornare riattraversai il tunnel e mi ritrovai in ospedale con due medici che si prendevano cura di me mi chiamavano Jason, Jason vedevo il mio corpo sul tavolo era livido sapevo che mi sarei ripreso perché me l'avevano detto gli esseri di luce cercavo di dire ai dottori di non preoccuparsi perché stavo bene uno di loro mi mise dei dischetti sul petto e il mio corpo rimbalzò quando mi svegliai dissi al dottore che l'avevo visto mettermi i dischetti sul petto cercai di dirlo anche a mia madre ma nessuno voleva sentirmi ecco questa è una testimonianza di premorte ne voglio proporre un'altra un'altra testimonianza di esperienza di premorte leggiamo circa un anno fa venni ricoverata in ospedale in seguito a scompensi cardiaci e la mattina successiva al ricovero mentre ero a letto cominciai ad avvertire un violento dolore al petto chiamai le infermiere quelle vennero e cominciarono a darsi da fare stavo male sdraiata supina così mi voltai e mentre lo facevo mi mancò il respiro e il cuore cessò di battere le infermiere gridarono emergenza, emergenza e intanto io mi senti uscire dal corpo e scivolare tra il materasso e la sponda laterale del letto mi parve di passare attraverso la sponda giù fino al pavimento poi cominciai a innalzarmi lentamente mentre mi innalzavo vidi altre infermiere che entravano correndo nella stanza circa una dozzina in quel momento il mio medico curante faceva il giro di visite in ospedale così lo chiamarono e vidi entrare anche lui ho pensato chissà che cosa ci fa qui continuai a salire fino al punto dove era fissato l'impianto della luce lo vidi di fianco con assoluta chiarezza e più su ancora poi mi fermai galleggiando lentamente appena sotto il soffitto e continuando a guardare giù mi sentivo come un foglio di carta che qualcuno avesse soffiato fino al soffitto li vidi rianimarmi stando lassù il mio corpo era steso sul letto bene in vista e tutti gli stavano radunati attorno sentì un'infermiera dire mio dio è morta mentre un'altra si curvava per farmi la respirazione bocca a bocca mentre lei era curva su di me io guardavo la sua nuca non dimenticherò mai come erano i suoi capelli i tagliati corti proprio in quel momento vidi che portavano dentro un apparecchio e mi applicavano gli elettrodi al petto quando lo fecero il mio corpo sussultò sul letto e sentì ogni osso del mio corpo scricchiolare era una cosa orribile mentre vedevo tutta quella gente laggiù che mi martellava il petto e mi strofinava le braccia e le gambe pensavo perché si danno tanto da fare adesso sto bene ecco questa è un'altra esperienza di premorte coloro che hanno vissuto una cosiddetta esperienza di premorte a volte raccontano di aver incontrato qualcuno un essere di luce per qualcuno è dio a questo proposito ne leggiamo un'altra di testimonianza mi alzai e camminai nell'atrio per andare a bere qualcosa e fu proprio in quell'istante come scoprirono poi che l'appendice si perforò mi sentì debolissimo e caddi mi pareva di andare alla deriva sentì un moto del mio essere che entrava e usciva dal mio corpo e udì una musica gradevole ondeggiai lungo l'atrio e uscì dalla veranda là mi parve che delle nuvole o piuttosto una nebbiolina rosata mi si addensasse attorno e allora io attraversai la parete della veranda come se non esistesse e poi mi ritrovai in una luce chiara come il cristallo bianca e luminosa era bella e risplendente radiosa ma non mi abbagliava lo sguardo non una luce che si possa descrivere in termini umani non posso dire di aver veduto una persona in quella luce eppure ha una sua identità senza dubbio è una luce di assoluta comprensione e di assoluto amore sentì venire dalla luce il pensiero mi ami tu? non era formulato proprio come una domanda immagino che il senso di quello che la luce diceva fosse se mi ami torna indietro e continua quello a cui hai dato principio nella tua vita e per tutto il tempo mi sentì come avvolto da un amore una compassione che vinceva tutto quindi un'esperienza di premorte è il racconto di una persona che dice di essere morta di aver visto qualcosa e racconta quello che ha visto mentre è morta poi la persona viene rianimata e appunto rientra nel corpo e racconta quello che ha visto ho qui sintetizzato in questa diapositiva un po' le caratteristiche dell'esperienza di premorte considerate che queste caratteristiche non sono presenti in tutti i racconti di premorte vediamole insieme innanzitutto la persona che racconta un'esperienza di premorte dice di essere uscita dal corpo la persona dice di vedere da fuori il proprio corpo fisico e l'ambiente circostante vede ciò che accade intorno al suo corpo la persona dice di galleggiare spesso di essere a livello del soffitto e di riuscire a vedere quello appunto che accade intorno al suo corpo spesso quando parlo di questo riflettendo con gli alunni dico ma se la persona è morta e chiamiamola anima o spirito se la sua anima o il suo spirito ha lasciato il suo corpo non occupa più uno spazio ciò che è spirituale l'anima non è materiale è immateriale quindi come fanno queste persone a dire che hanno lasciato il corpo materiale e il loro spirito o la loro anima galleggiando sul soffitto la prima cosa che domando ai ragazzi su cui voglio rifletto un'anima essendo spirituale non occupa uno spazio primo secondo riflettiamo insieme anche sul fatto che la persona nel momento in cui è morta e l'anima ha lasciato il corpo l'anima non ha più gli occhi quindi la domanda è come fa l'anima che in questi racconti galleggia a livello del soffitto e vede il corpo magari su un letto come fa l'anima senza gli occhi materiali senza il corpo materiale a vedere a spostarsi eccetera quattro in questi racconti il soggetto chiaramente è invisibile ai viventi cioè il soggetto non viene visto lui vede gli altri ma gli altri non vedono la sua il suo spirito la sua anima in questi racconti inoltre il soggetto appunto ha una specie di corpo eterico che può attraversare facilmente qualsiasi oggetto materiale un muro una porta può spostarsi velocemente in alcuni racconti il soggetto sente un suono anche qui la domanda che mi pongo è se l'anima si è separata dal corpo e quindi non ha più le orecchie come fa a sentire il suono spesso in questi racconti ecco le persone raccontano di attraversare un tunnel ora nell'aldilà la materia non c'è non c'è lo spazio non c'è la luce non c'è neanche il buio e anche qui la domanda è come può esserci un tunnel come può esserci una luce se nell'aldilà non c'è la materia l'aldilà non è un luogo fisico è in un certo senso uno stato di esistenza potrebbe però essere che queste persone descrivano quello che hanno visto ciò che è indescrivibile usando però delle espressioni dei concetti legati al mondo materiale queste persone raccontano che dentro al tunnel o dopo il tunnel raccontano delle persone care defunte oppure incontrano degli angeli in alcuni di questi racconti la persona dice di aver incontrato l'essere di luce non tutti lo chiamano Dio non tutti sono sicuri che è Dio raccontano che l'essere di luce emana amore e raccontano che gli spiriti nel tunnel comunicano tra di loro attraverso i pensieri cioè telepaticamente poi l'essere di luce gli domanda come hai vissuto e c'è una visione rapida della propria vita a questo punto la persona prova gioia o rimorso diciamo rivedendo le scelte della propria vita alla persona viene detta all'anima viene detta di che non è ancora il suo momento e che deve ritornare nel suo corpo al che in questi racconti spesso l'anima non vorrebbe ritornare nel corpo perché si trova bene nell'aldilà a tal punto che spesso queste persone che hanno vissuto un'esperienza di premorte raccontano che non volevano ritornare diciamo nella vita terrena e queste persone dopo aver fatto questa esperienza raccontano anche di non aver più paura della morte un'altra cosa su cui spesso riflettiamo in classe con gli alunni è il fatto che i teologi cattolici affermano la teologia cattolica afferma che al momento della morte l'anima e il corpo si separano e l'anima va immediatamente nell'aldilà immediatamente questi racconti invece in questi racconti invece abbiamo spesso una situazione in cui l'anima una volta che la persona è morta una volta che l'anima si è separata dal corpo l'anima per un certo tempo ma un certo tempo è tra virgolette perché non esiste il tempo nell'aldilà l'anima per un certo tempo vaga la persona è morta l'anima lascia il corpo e l'anima vede quello che accade al proprio corpo si sposta va da un'altra parte quindi ecco poi ci siamo domandati se queste testimonianze possano essere diciamo dicano più o meno concordino con quanto pensa la teologia cattolica vorrei riassumere le osservazioni di uno studioso Giovanni Martinetti su queste esperienze di premorte osservazioni che questo autore riporta nel suo testo perché credo nella vita eterna lui osserva o meglio lui riporta il pensiero di coloro che credono in queste nell'autenticità di queste esperienze di premorte chi crede nell'autenticità di queste esperienze dice uno l'esperienza di premorte non sono sogni o allucinazioni perché sono racconti troppo nitidi troppo dettagliati al contrario di un sogno o di un'allucinazione che sono invece racconti più confusi chi crede nell'autenticità di questi racconti dice che la causa non può essere l'uso di anestetici o di altri medicinali perché in molti casi i protagonisti non hanno preso nessun tipo di medicinale tre spesso gli autori che parlano dell'esperienza di premorte dicono che riguardo ai protagonisti dell'esperienza di premorte pochissimi hanno letto o conoscevano le esperienze di premorte prima di viverne una personalmente questi studiosi notano anche che persone appartenenti a culture diverse a nazionalità diverse a religioni diverse fanno fanno gli stessi racconti cioè i racconti sono simili questi autori notano anche come le descrizioni dei rianimati sono molto precise addirittura in un caso ricordo che una persona che era morta in un incidente quando la sua anima ha lasciato il corpo l'anima ha riuscito addirittura a leggere la targa della macchina che lo aveva investito e poi quando è rientrato nel corpo appunto ha dimostrato di aver visto almeno nel racconto ha dimostrato di aver veramente visto qualcosa che non poteva vedere altrimenti in questi racconti riguardano persone che sono morte non persone che sono andate in coma e quindi la domanda che si pone questo studioso e che mi pongo anch'io è le esperienze di premorte possono essere considerate un aiuto di Dio per credere nell'aldilà per quanto riguarda il mio giudizio il mio giudizio è sospeso sospeso vuol dire che non giungo né alla conclusione che siano racconti inventati né credo fermamente nell'autenticità di questi racconti quindi il mio giudizio è sospeso prima di andare a vedere il giudizio di un sacerdote cattolico padre Livio Fanzaga il direttore di Radio Maria che ha scritto insieme a un giornalista quel suo libro che abbiamo già visto al di là la vita oltre la morte la domanda che vorrei su cui vorrei riflettere è ma la chiesa cattolica si è espressa sulle esperienze di premorte a me risulta di no quindi a me risulta che la chiesa non abbia mai pronunciato un giudizio sulle esperienze di premorte i racconti delle esperienze di premorte non sono pubblicizzati dalla chiesa cattolica o da autori cattolici generalmente c'è però da dire una cosa su questo leggendo qualche leggendo i racconti di esperienze di premorte ci sono senza dubbio degli elementi che contrastano con la teologia cattolica faccio qualche esempio in alcune in alcuni racconti di esperienze di premorte si parla di vite precedenti cioè in alcune testimonianze la persona dice che ha incontrato di là delle persone e che è possibile la cosiddetta reincarnazione cioè in questi racconti si parla di preesistenza dell'anima ora secondo la teologia cattolica l'anima viene l'anima di una persona viene creata al momento del concepimento l'anima è creata direttamente da Dio e unità al corpo secondo la teologia cattolica non esiste preesistenza secondo la teologia cattolica una persona passa nel mondo ha una vita terrena una e secondo la teologia cattolica prima del concepimento e quindi prima che Dio crei l'anima per unirla al corpo all'embrione l'anima non esisteva mentre in questi racconti si parla di preesistenza delle anime cioè le anime vivono una vita nell'aldilà prima di unirsi al corpo e queste anime possono reincarnarsi quindi questi racconti di preesistenza dell'anima nell'esperienza di pre-morte contrastano con quello che crede la teologia cattolica un altro esempio a volte nell'esperienza di pre-morte si parla di animali che le anime incontrano nell'aldilà nel tunnel e quindi dicono che gli animali sopravvivono alla morte questo contrasta anche con quello che dice la teologia cattolica secondo la teologia cattolica gli animali non hanno un'anima immortale quindi l'animale dopo la morte non esiste più ancora altri elementi presenti a volte nell'esperienza di pre-morte che contrastano con la teologia cattolica possono essere la persona a volte racconta di aver visitato altri mondi quindi l'anima dopo la morte della persona l'anima lascia il corpo entra nel tunnel e a un certo punto va a visitare altri mondi oppure l'anima parla di spiriti che appunto diventano uomini spiriti che quindi si incarnano vengono sulla terra oppure spiriti che diventano angeli anche questo punto contrasta con la teologia cattolica la teologia cattolica afferma l'angelo è creato angelo e rimarrà per sempre angelo l'essere umano è creato essere umano e rimarrà per sempre essere umano non c'è un passaggio da angelo a essere umano e non ci sono spiriti che poi si trasformano in uomini e spiriti che si trasformano in angeli addirittura in alcune testimonianze di premorte si parla dell'aura ora il termine aura generalmente è un termine che compare in quella che si chiama new age che non è proprio una religione è più un movimento religioso in sintesi new age è un miscuglio di elementi presi da altre religioni non è proprio così ma per sintetizzare cosa vuol dire l'aura ora vuol dire una luminosità che emana una persona io vedo la tua aura in alcune esperienze di premorte si parla dell'aura ora l'aura è un elemento che non c'è nella teologia cattolica e quindi questa è un'altra cosa che contrasta con quello che pensa la chiesa cattolica andiamo a vedere il giudizio di padre Livio Fanzaga sull'esperienza di premorte padre Livio scrive la morte è la separazione dell'anima dal corpo finché l'anima non è separata dal corpo non si può parlare di morte allora il problema è di sapere se in chi ha avuto queste esperienze l'anima era separata dal corpo o era invece sulla frontiera della separazione cioè padre Livio dice bisogna capire se queste persone che fanno questi racconti erano veramente morte o semplicemente erano diciamo nella fase della morte ma ancora l'anima non si era separata dal corpo scrive padre Livio non posso non posso escludere che sulla frontiera della separazione la persona possa vivere delle esperienze particolari ci possono essere delle esperienze di frontiera di anime che magari non si sono ancora separate dal corpo in questi casi non si dovrebbe ancora parlare di morte nel senso vero della parola sono magari anche doni che Dio dà a qualche persona non escludo dunque che ci siano delle persone che siano veramente morte nel senso filosofico della parola nel senso del distacco dell'anima dal corpo ma anche per divina permissione possano poi tornare in vita e dare la loro testimonianza dell'aldilà quindi anche del paradiso l'ipotesi di alcuni è proprio quella che le esperienze di premorte possano essere un dono di Dio per aiutare gli uomini a credere nell'aldilà di Dio